Abbiamo fatto una visita su tutta la villa, ovviamente, come abbiamo aperto anche altre volte e di fatto per questioni di sicurezza diventa un problema. L'unica cosa, nostra intenzione, abbiamo anche caschetti, l'ho detto, ai geometri, potremo fare a gruppetti a vedere il primo piano, perché effettivamente di fatto diventa un cantiere qui quest'estate, da settembre, perché iniziano i lavori e abbiamo verificato proprio ieri, ho mandato una squadra. L'invito è di 15 giorni fa, cioè non è che fate la verifica ieri e ci dite stamattina che non si può entrare. Questo lo dovevate... L'associazione sostiene che non gli è mai stato comunicato. Di che cosa? Il fatto è che ci fosse un limite di 15 persone. L'associazione sostiene di non aver mai saputo che avrebbero potuto entrare solo 15 persone per ragioni di sicurezza. No, 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 faremo entrare ora a gruppetti, ho detto a gruppetti, quindi c'è solo questo, però effettivamente le verifiche che abbiamo fatto non consentono a fare entrare massi in questo momento di persone, quindi è questione proprio di sicurezza. E ovviamente questa cosa noi l'avevamo detta, anzi, ve lo dico, è un po' come dire, è mettere a disposizione ancora una volta la Villa Zanelli, perché l'abbiamo già messo a disposizione diverse volte, in una situazione del prima, poi vedremo dopo, ma prima ovviamente ci stiamo avvicinando ai tempi del cantiere e ora, con un po' di pazienza, se facciamo gruppetti di persone, vediamo il primo piano. E invece, però, l'avevamo comunicato, perché questo evento comunque non è organizzato da arte. E invece le ragioni di un ritardo così pronunciato? No, il ritardo pronunciato, dovete parlare un attimo con gli organizzatori, perché io, oltretutto, credo che anche il sindaco e anche l'assessore verso l'Una, siamo d'accordo, che, infatti io ho l'appuntamento col sindaco di Savona e con l'assessore regionale, che a l'Una vengono qui un po' anche per dare... Mi perdoni, io però le riassumo perché mi sembra che non siano chiari due punti. Il primo è che l'organizzazione alle 10 era qui, bene o male che abbia fatto l'organizzazione e non avevano le chiavi e sono arrivate alle 11. Il secondo punto è che o voi o l'associazione, uno dei due, dice qualcosa di sbagliato, perché pare che questo limite di 15 persone alla volta non si sapesse fino a quando sono arrivati i dipendenti di arte. Non ho mai sentito parlare dei limiti di 15. Io vi sto dicendo che la villa oggi è accessibile un attimo a gruppi con i nostri tecnici. Ci abbiamo gli almetti, quindi per dire le verifiche... Sono 15, perché gli è stato detto che aspettavano 15 persone. No, no. L'ha detto la signora... Ah, vabbè, non l'ho detto io. Non l'ho detto io. Io sono il presidente dell'associazione Italia Liberti, non l'abbiamo detto. La cosa è molto chiaro. Io vi dico oggi, giusto perché c'è questa... Tutto sommato c'è stata una disorganizzazione che, ripeto, arte ha messo a disposizione la villa, chi doveva organizzare l'evento probabilmente non l'ha organizzato. Quindi è colpa sua, speziale, a sto punto. Colpa mia di cosa? Secondo il presidente Diarte è colpa sua. Stiamo calmi. Io ho detto che dal 10 all'1 la villa è aperta e gli accordi erano questi. Quindi loro e gli 10 si dovevano entrare qui a aprire la villa, alle 10, e questi gli accordi. Hanno fatto tardi loro. 10 e mezza, sono alle 10 finiti perché c'è stato un incidente. C'è stato un incidente, però abbiamo detto alle 10, Presidente, eh. Non andiamo alle 10. Era il comunicato stampa che abbiamo condiviso, era alle 10, lei l'ha avuto. E gli chiami sono arrivati alle 11. Sono arrivati tardi, non è colpa sua, ma sono arrivati tardi i suoi collaboratori, quindi non diamo la colpa di Italia Liberty. Di fatto, io voglio dire, a parte 10, 10 e mezza, non lo so, però... Però scusate, a parte l'orario, perché non siamo ancora dentro quindi adesso? Perché siccome è che la villa non è proprietà nostra, perché io seppur ho trovato un cliente per comprare questa villa non è in vendita, è un plauso alla proprietà che la mettono in posto. Di conseguenza, io che non ho le chiavi, non entro in casa altrui senza chiavi. Ho aspettato cortesemente l'arte che è stata così gentile e ringrazio per aprire questa villa a questa occasione e adesso l'apriamo al pubblico, come ha detto in questa sicurezza, come ha detto il Presidente. A me mi dispiace... È il 14 di agosto.